segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te un po troppo sicuramente questa iniziativa del copa si riparte dall'intervista fatta a rete 4 al ministro degli esteri russo lavrov e però si estende anche ai giornalisti filo putin che sono presenti sui mezzi di informazioni italiani e abbiamo capito bene e c'è un problema di ingerenza russo nell'informazione italiana tanto qui non si parla nel comunicato né di russi né di ucraini né di altri ma chiaramente della guerra russo ucraina insomma parrebbe che il nostro comitato parlamentare di controllo sui servizi abbia scoperto che esiste la guerra dell'informazione che è la base di tutte le guerre specialmente adesso specialmente in età di social media dopodiché come la vuoi prendere o la prendi un po così in letizia è un momento di alleggerimento della tensione o se lo prendi sul serio devi immaginare che si voglia stabilire un ministero della verità io tendo più per la prima ipotesi quindi mi sembra semplicemente un un caso così un po curioso uno scherzo uno scherzo anche lei lo recepisce